Campionato Serie D Gironeac, il Degli Ulivi padroni di casa ripongono in saccoccia un punticino contro Napalmese, ora al terz'ultimo posto nelle sabbie mobili di classifica. Passo falso per la Fidelisandria. Al fischio di avvio già un brivido per la porta dei padroni di casa, l'ottava occasione per gli ospiti, Silvestro supera l'avversario, ma è un nulla di fatto. Nello scacchiere di Grimaldi, nuovo tentativo che questa volta porta la firma di Potenza, che calcia da fuori aria ma non c'entra lo specchio della porta. Primo sussulto per la compagine targata De Candia, siamo al quarto d'ora e Sasanelli conclude a giro da posizione defilata. Un arambante palmese riesce a passare in vantaggio al minuto 21. Conè calcia da limite di aria sulla sfera, arriva di volata a Silvestro, che questa volta non sbaglia. I campanici credono e dopo soli cinque minuti è sempre Conè ad imbastire la ghiotta occasione, tutto solo dinanzi al portiere ma spreche il raddoppio nonostante una posizione centrale. I padroni di casa si destano ed è Feula provarci con un colpo di testa sugli sviluppi di un coner, ma sfiora la traversa. Baticuore biancazzurro al quarantesimo diagonale di Dragà, si avventa Sasanelli e la palla è al lato di un soffio. Squadre negli spogliatoi, vantaggio della Palmese. Ritorno in campo ed i federiciani provano da subito ad ingranare, ma sono gli ospiti al 55esimo a sfiorare la rete del raddoppio con Fusco bloccato da Baglietti. Boatual degli Olivi e il minuto 67, la Fidelisandria pareggia. Assist di Strambelli che imbecca Sasanelli che questa volta non sbaglia. Ora i biancazzurri salgono in cattedra. L'ottantunesimo nuovo tentativo destro di Donida, ma la palla esce di pochissimo. Triplice fischio finale, le due compagini si spartiscono la posta in palio, la Palmese rallenta così il cammino della Fidelisandria. Grazie a tutti.